Bellissimo, è molto rilassante, il posto ideale è anche per portare i bambini a fare una passeggiata e passare qualche ora in serenità, all'aria aperta, con questa bellissima giornata. Comunque ci fa sempre piacere partecipare a queste passeggiate, per un semplice fatto di stare in compagnia, di stare in contatto con la natura. Una passeggiata attraverso la Val di Chio alla scoperta di usi, costumi e tradizioni locali. Un'esperienza inedita ed unica della giornata nazionale della camminata tra gli olivi, un'iniziativa promossa dall'associazione Città dell'Olio in 140 città italiane, di cui 65 toscane, tra queste anche Castiglion Fiorentino. È un modo per sensibilizzare un po' tutti a questa importante realtà che è il mondo dell'olivicoltura, con tutti i temi che ne conseguono, non da meno l'aspetto paesaggistico legato al turismo dell'olio e quindi all'apprezzamento dei nostri percorsi verdi naturalistici tra le piante di olivo. Salvare un olivieto salva la vita, il motto dell'ottava giornata nazionale. Perché da un punto di vista sia enogastronomico, ma soprattutto turistico e paesaggistico, l'olivo e la pianta d'olivo rappresentano una vera tradizione del territorio. E salvare un olivo vuol dire anche preservare i nostri paesaggi da quelle che sono le caratteristiche importanti e tradizionali di un territorio che caratterizzano e si connotano su una storia vera del passato. La camminata è terminata con la visita ai frantoi. Siamo nel pieno della campagna olivicola, quest'anno la produzione sembra essere discreta, ci sono ovviamente tanti aspetti legati alle tradizioni, ma significa soprattutto apprezzare un prodotto che è anche una sostanza considerata nutraucetica e quindi salutare. Molto belli, abbiamo apprezzato molto il pan con l'olio, ottimo, anche il vino di ottima qualità, siamo contenti.